Dopo aver visto ad Augusto il caos circolatorio, l'intasamento causato dalle auto nel centro storico alla Borgata, le file di lunghi mezzi, oltre un chilometro, imbarba tutte le norme di protezione civile, ci aspettavamo quantomeno oggi le dimissioni degli assessori a lavori pubblici alla circolazione, perché un tale guazzabuglio, stigmatizzato da parole irripetibili dalla popolazione, neppure un handicappato sarebbe stato capace di mettere in atto. Invece i nostri solerti amministratori, sì, l'esperienza del lontano del recente passato non sono bastate e le autorità che spesso intervengono per cose meno pericolose di un blocco circolatorio, cosa fanno? Com'è possibile concedere l'autorizzazione a sventrare contemporaneamente via Piccarmo, via Capitineria, via Lavaggi e altre arterie senza mettere in atto un piano sussidiario per il flusso dei mezzi? Ricordiamo che quando in via 14 ottobre vennero passati i sottoservizi e la strada fu chiusa, venne autorizzato il transito per Corso Umberto, che notoriamente nel pomeriggio diventa isola pedanale. Bene, ora si chiude via Veneto, parte di via Capitineria, una fetta di via Lavaggi e si lascia tutto all'inventivo dell'utente per trovare il modo di districarsi per entrare o uscire dalla città di Augusta. E di pochi vigili urbani che nella bisogna dovevano essere rispolverati, che fine hanno fatto? Perché quando c'è una corso ciclistica, una processione, un'altra pubblica manifestazione e c'è di mezzo all'autorità di polizia per ordinare la disciplina del servizio, i vigili urbani disponibili ad effettuare il loro lavoro e il controllo si trovano, ma nella presente congiuntura, almeno nelle ore di punta, ci dovrebbero essere. Invece non si vede nessuno. Sebbene il sindaco Santonello si sforzi di dare impulso all'amministrazione e qualche assessore faccia del suo meglio, la povera Augusta, ebbene si sappia, è veramente in mano a nessuno.